Exoraptics, eccoci qui oggi con questa bellissima BMW Serie 2 Active Tourer allestimento Advantage. Vettura con motore 1.5 diesel da 116 CV, dotata di cerchi in lega da 16. Lunghezza della vettura di circa 4,34 m, alta 1,56 m per una larghezza di 1,80 m. Troviamo anche dei bellissimi vetri scuri, totalmente oscurati sia anche l'unotto posteriore. Andiamo nel bagagliaio, bagagliaio parecchio capiente, contiene circa una capacità di 468 litri e andando a battere i sedili posteriori guadagniamo una capienza di 1.500 litri. Andando nella parte posteriore, la vettura risulta essere abbastanza ampia, senza difficoltà ad accederci, quindi c'è anche parecchio spazio tra la testa e la parte superiore, quindi tra il tetto. Andiamo nella parte anteriore della vettura. Vettura a cambio manuale, dotata di cristalli anteriori e posteriori totalmente elettrici, comandi al volante, assistenza alla guida, clima automatico elettronico, freno a mano elettronico, ovviamente vettura a cambio manuale e diciamo è dotata comunque di tutti gli ultimi optional che è presenti su ormai quasi tutte le vetture. Bracciolo comodo per la guida, ampio per inserire magari il telefonino, le chiavi, porta bevande, comandi gestibili anche da qua per andare su tutte le varie impostazioni tra navigatore, media, radio e cose varie. Ho usato anche l'ADSOS come ormai tutte le ultime vetture. E questa vettura è una vettura del 2018, trazione anteriore, capacità di serbatoio di circa 51 litri, quindi anche per viaggi o comunque lunghe distanze è comoda e con dei consumi veramente ridotti. Se volete visionarla ci troviamo a Barzago, provincia di Lecco, a 30 km a nord di Milano. Se volete visionare anche le foto o comunque avere ulteriori informazioni riguardanti la vettura la trovate sul nostro sito www.ratix.com Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione e quando volete venite poi a trovarci. ExoRatix